Buonasera, signorina, buonasera, con bello stare a Napoli e sognare, mentre in cielo sempre a dire buonasera, a chiudere la chiesione di preparare, ogni giorno ci compriamo un po' di nuovo, e la parola che è con la montagna e la cittadina, ma ora è una granmina, che c'è un personaggio, ma ora è una granmina, a chiudere la chiesione di preparare, ma ora è una granmina, a chiudere la chiesione di preparare, Grazie a tutti Grazie a tutti